Grazie a tutti. È semplice di questi tempi organizzare dei luoghi di resistenza come questi, di discussione come questa, quindi in primo luogo grazie ai compagni e alle compagne. Io vengo da una giornata un po' lunga che è iniziata in Valsusa dove la polizia italiana ha dimostrato ancora una volta di essere più sensibile alla difesa di un cantiere che non alla difesa di quello che la Costituzione prevede sia peraltro il mandato dei parlamentari. Grazie a tutti. 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 Il partito della sinistra europea è una discussione molto articolata anche tra i parlamentari europei della Linke. Quindi io ringrazio i compagni e le compagne perché credo che invece la sinistra italiana rischia di connotarsi per una sorta di dogmatismo. Per cui una volta che ci siamo, lo diceva Piera prima, votati al Papa straniero, si ha quasi paura di aprire una discussione. Discussione di cui invece secondo me c'è forte bisogno e provo a dire perché, dicendo anche che a differenza del compagno che mi ha preceduto, ti chiedo scusa. Marinelli, probabilmente lui rappresenta la sinistra con le idee chiare, io rappresento la sinistra che ha qualche dubbio. Però sinceramente credo che sarebbe un po' complicato proprio perché io credo, e sono d'accordo con Cristina, noi veniamo da una sconfitta, da una sconfitta pesantissima. Io credo che il terreno dell'elaborazione di una strategia politica dopo una sconfitta, come è stata oggettivamente quella della notte del 12 luglio, richieda anche l'apertura di qualche dubbio e sicuramente la condivisione di qualche domanda. Lo dico essendo stata con Piera e con altri compagni presente alla chiusura della campagna elettorale dello scorso gennaio. E condividendo due riflessioni che possono sembrare contraddittorie ma secondo me invece si tengono fortemente insieme. Io ho sentito come uno strappo rispetto a quella Siriza che ho considerato un punto di riferimento, non perché come alcuni hanno detto dobbiamo fare come Siriza, perché io credo che noi abbiamo alternato una serie di dobbiamo fare come senza invece porci la questione fondamentale che qui voglio nominare. Mi perdonerete se faccio ricorso a categorie gramsciane ma sento l'esigenza dei maestri in questo momento. Prima mi veniva in mente quando tu citavi i 21 punti, che i 21 punti erano quelli che la terza internazionale disse che andavano sottoscritti dai partiti comunisti e siamo finiti ad altri 21 punti ma accantoniamo queste analogie che ci farebbero cadere nello sconforto più totale. Dicevo, io credo che il tema invece della costruzione di una sinistra nazionale e popolare, che ovviamente non significa nazionalista, ma che si interroga in Italia sulle specificità della società italiana, che ha un sistema politico e mediatico molto diverso da quello di altri paesi europei e che ha un livello di passivizzazione sociale e di spoliticizzazione molto diverso da quelli di altri paesi europei debba essere un tema su cui la sinistra italiana e i vari processi costituenti di cui ormai sentiamo parlare, io perlomeno dal 2008 in poi sento parlare di processi costituenti, probabilmente non ci siamo proprio interrogati su questo, su come si costruisce un elemento di riconnessione sociale e di ricomposizione del blocco sociale. Io penso che lo strappo con quella Siriza, che per me è stato un punto di riferimento per tre ragioni fondamentali, il primo la rottura, e qui appunto viene in mente davvero lo spirito di scissione, il fatto che tu dici io sono altro da, sono altro dal PASOC, sono altro da quel socialismo europeo che sta devastando i popoli europei e quindi Siriza come forza che ha costruito il proprio consenso e anche la propria possibilità di diventare sinistra di governo, non su un'ipotesi di compromesso, ma su una strategia di rottura. La seconda, l'internità al conflitto sociale, la capacità di Siriza di costruire la propria unità, non come elemento pattizio fra gli undici soggetti politici, ma dentro il conflitto, gli scioperi generali, l'occupazione di piazza sintagma e tutto quello che Nicola sa molto meglio di me. La terza questione è la capacità di praticare la connessione tra sociale e politico, non come mero discorso retorico, ma costruendo esperienze come quella di Solidarity for All, le pratiche mutualistiche, tutto quello che abbiamo potuto vedere noi che siamo stati in Grecia in questi mesi. Quando io ho sentito dire da Alexis Tsipras che Siriza non è un partito di governo, mi è venuto il dubbio che fosse il governo a cambiare la natura del partito e non il partito a cambiare il modo di stare al governo. E quello per me è stato il momento del dubbio. Lo dico perché che l'esperienza di governo abbia potuto di fatto provocare per via elettorale un disciplinamento di Siriza, una nuova stagione di Siriza, Giacomo Russo Spena la chiamava la Siriza 2.0, ma io insomma credo che questo sia il rischio reale e concreto di fronte a cui ci troviamo. Personalmente ho ritenuto e avrei ritenuto il fatto che Siriza perdesse le elezioni una catastrofe, nonostante l'analisi che ho appena fatto, perché penso che se si fosse chiusa la stagione di Siriza, che è stata l'unica tentativa di portare in maniera pubblica e visibile il conflitto contro le politiche di austerità, se si fosse chiusa semplicemente con una sconfitta di Siriza, noi avremmo perso la possibilità, sarebbe stata una catastrofe per la sinistra europea, non è detto che non lo sia in altre forme, ma è diciamo, basti vedere quello che è successo nelle elezioni catalane, ma detto questo, la chiusura della stagione di Siriza, a mio avviso, avrebbe segnato una sconfitta ancora più pesante rispetto a quella del 12 luglio. Ed è la ragione per cui io ho sostenuto il fatto che Siriza dovesse essere auspicata la vittoria di Siriza nelle ultime elezioni greche, anche per un'altra ragione, che abbiamo forse nominato poco durante questa discussione, ma che per me è un tema fondamentale, che è quello della ristrutturazione del debito e della conferenza europea sul debito. La prossima settimana ci saranno a Strasburgo Hollande e Merkel, io mi auguro che il mio gruppo parlamentare ponga con forza questa questione nel dibattito al Parlamento europeo, perché o il fatto che ci sia un governo Siriza serve a mantenere aperta la questione della ristrutturazione del debito o noi siamo di fronte, come dice, veramente a una situazione devastante. Perché dico la questione del debito? Non soltanto perché Tsipras, quando è stato candidato a presidente della Commissione europea durante la campagna elettorale di maggio, ce lo ricordiamo tutti, si è fatto l'autore della proposta della conferenza europea sul debito, ma anche perché io credo che l'esperienza, non l'abbiamo menzionata oggi, ma l'esperienza della Commissione del Parlamento greco, che ha di fatto messo in piedi il tema dell'audito sul debito, io credo che sia un punto di battaglia politica fondamentale e mi stupisce che nella discussione su un processo della sinistra unitaria, eccetera, non si metta come primo punto, diciamo, di battaglia politica, si ragiona se unire o non unire gruppi parlamentari, e secondo me si deve ragionare di mettere come primo punto di battaglia politica il fatto che anche il Parlamento italiano si doti di una commissione che porti avanti l'audit sul debito. Aggiungo, io forse, diciamo, anche qui nomino un elemento di cultura politica, io mi sono formata nella generazione di Genova, nella generazione dei social forum europei, sono di cultura politica europeista, penso che, e anche qui torno al maestro, penso che l'Unione Europea in questo momento sia un gigantesco strumento di rivoluzione passiva, nel senso che piega, diciamo, le, come dire, una progettualità europeista a una logica invece di passivizzazione e di governance, allo stesso tempo io credo che noi strategicamente non possiamo lasciare la dimensione europea ai signori dell'austerità. Quindi io, diciamo, come militante strategicamente non penso che noi possiamo rinunciare a una dimensione europeista, a una progettualità europea. Aggiungo, questo lo faccio perché penso che occorra fidelisticamente rimanere ancorati alla dimensione europea, no, lo faccio perché penso che la dimensione della statualità, quella, diciamo, dello Stato-Nazione, d'accordissimo con Ugo, diciamo, il fatto di che storicamente battaglie progressive si siano legate a una dimensione nazionale è storicamente vero ed è assolutamente innegabile. Credo anche che la dimensione della statualità oggi sia profondamente intrisa della logica del neoliberismo. Non c'è una dimensione della statualità, come dire, che noi possiamo far ritornare a una dimensione coincidente con l'espressione della sovranità popolare. Proprio perché i meccanismi della statualità sono profondamente intrisi dell'elemento della governance e basti vedere quello che sta accadendo diciamo in Italia e non da ora. In cui, diciamo, non c'è soltanto un ce lo chiede l'Europa, ci sono blocchi di potere a livello nazionale utilizzano lo strumento europeo per imporre esattamente la logica del neoliberismo. quindi, diciamo, da questo punto di vista io non sono sicura che l'elemento della statualità in questo momento diciamo dell'investimento su una dimensione statuale nazionale abbia quella valenza progressiva e lo dico invece qui da femminista io ho una certa allergia alla retorica patriottica e popolare che per esempio usano tantissimo i compagni di Podemos ma che io non riesco a sentire come diciamo un ordine discorsivo che mi appartiene la prima volta che io sono stata rappresentante istituzionale invitata come parlamentare europeo al consiglio regionale della Puglia presidente della regione non vi dico chi era in quel momento provate a ricordarlo vengo cacciata dal consiglio regionale della Puglia perché non mi sono alzata all'ino nazionale per intenderci quindi diciamo proprio il mio esordio è stato poco diciamo poco nazionalista aggiungo c'è però un punto e il punto lo sintetizzo così si chiama le dure repliche della storia e cioè può il fatto che io ritengo che strategicamente come movimento come diciamo così movimento operaio del ventunesimo secolo agire strategicamente sul terreno europeo può farmi chiudere gli occhi rispetto al fatto che esistono diciamo dei rapporti di forza che hanno determinato che al momento diciamo in cui vi era una possibilità di scelta e secondo me c'era una possibilità di scelta perché se noi sposiamo la logica del non ci sono alternative stiamo già dentro un ordine del discorso che è quello che dovremmo respingere nel momento in cui tu scegli fra dare continuità a quello che è un mandato che è ricevuto da un referendum in cui il 61% dei greci ha detto una determinata cosa e fa invece un'altra cosa ecco rispetto a quello c'è un elemento in cui la politica poteva agire un ruolo diverso secondo me sì secondo me sì e se noi non ci poniamo questa domanda secondo me diciamo non facciamo non ci comportiamo da militanti non diciamo rinunciamo come dire a fare i conti con la realtà delle cose allora io che sono europeista convinta penso che noi non possiamo non aprire una discussione sul piano B perché non aprire la discussione sul piano B ci costringe ad andare a un tavolo in cui le regole sono truccate in cui i rapporti di forza sono quelli che sono e a non avere alternative credo che questo sia semplicemente il punto io non sono nostalgica della lira amo dire che io non ho mai preso uno stipendio in lira il mio primo stipendio è stato in euro e peraltro anche molto basso ma detto questo io credo perché era quello di un dottorato di ricerca detto questo io credo che sarebbe assolutamente deleterio persino per chi come me pensa appunto ama immaginare un'Europa federale credo che non avere diciamo e non discutere su un piano B che ti permetta di dire se io devo scegliere tra la mia costituzione e l'unione europea e l'euro io scelgo la mia costituzione beh questo credo che sia assolutamente uno strumento di una battaglia politica che non rinuncia alla strategia europea aggiungo per amore diciamo di completezza io qui ho sentito dare per acquisita una divisione che io invece considererei se si stabilizzasse assolutamente deleteria e cioè sto sempre qui a quello che diceva il compagno fra la sinistra europeista e la sinistra semplifico per sintetizzare e mi scuserete è la sinistra no euro perché noi in Italia abbiamo molto faticato molto faticato a acquisire un punto che invece diciamo come dire la stabilizzazione di questa divisione rimetterebbe ancora in discussione il punto per me è la costruzione di una sinistra alternativa senza sé e senza ma al partito democratico e al socialismo europeo e che si dà come compito quello di ricostruire una dimensione del conflitto in questo paese di riconnettere anche in questo paese dove il sindacato è stato il più silente negli anni del memorandum italiano negli anni di Monti negli anni della Fornero silente di ricostruire un elemento di politicizzazione questo è quello che secondo me la sinistra qui in Italia deve fare e che non è riuscita a fare per molti anni perché si è divisa sul punto e sul tema delle alleanze del rapporto col governo io non vorrei che noi ci dividessimo tra la sinistra di governo che evoca il mantra del governo anche dopo che si è dimostrato che il governo non basta a recuperare sovranità e la sinistra no euro che a mio avviso non coincide con un recupero di sovranità politica perché anche questo credo che vada detto e invece dismettessimo quella che secondo me è la funzione principale che dobbiamo svolgere e cioè accumulare forze sulla lotta alle politiche di austerità sul tema del debito sul tema della disobbedienza e della rottura dei trattati io credo che noi oggi dobbiamo accumulare forze su questo livello su questa parola d'ordine lo dico perché e chiudo non voglio rubare rubare altro tempo quando si evoca anche qui il tema dei rapporti di forza lo si è fatto molto spesso dimenticando permettetemi diciamo se anche qui torno un po' indietro con gli anni ma quando Gramsci introduce la categoria dei rapporti di forza lo fa c'è proprio una come dire una evoluzione nei quaderni del carcere lui smette di citare la metafora struttura sovrastruttura e incomincia a usare la categoria dei rapporti di forza perché dico questo perché è importante non dimenticarci che nel tema dei rapporti di forza c'è il ruolo delle soggettività politiche e se noi non accumuliamo forza sul terreno della soggettività politica e secondo me anche della ricostruzione di una dimensione europea dei conflitti e dei movimenti noi saremo destinati allo scacco allora io credo che il nostro compito sia costruirla qui in Italia una sinistra capace di ridare una dimensione di massa al conflitto sociale ma anche farlo in connessione con le sinistre di altri paesi europei le giornate che ci saranno a Bruxelles sulle questioni europee io credo che debbano essere giornate per noi fondamentali fondamentali di ricostruzione di una dimensione europea del movimento e dei conflitti allora io mi auguro come dire che ecco se noi possiamo svolgere un ruolo e lo dico qui da compagna diciamo di rifondazione comunista dell'altra Europa con Tsipras secondo me non è quello di contarci non è quello di contarci tra si euro e no euro non è quello di contarci tra sinistra di governo e sinistra di opposizione è quello di tornare ad accumulare forze è quello di tornare a costruire conflitto è quello di dare il nostro contributo alla costruzione di un movimento di massa contro le politiche di austerità perché prima diciamo abbiamo tanto discusso sulla questione della sovranità nazionale e della sovranità popolare io credo che la questione della democrazia non sia semplicemente una questione appunto di luoghi della rappresentanza che pure sappiamo essere stati ampiamente spugnati io credo che la democrazia sia una questione come dire di ridemocratizzazione profonda della società e sta a tutti noi costruirlo davvero casa matta per casa matta costruendo qui io cito il Sipras perché lo citavo in campagna elettorale durante l'europea e da questo punto di vista vorrei rimanere fedele in me stessa costruire l'unità della sinistra per me continua ad essere costruire l'unità di ciò che il neoliberismo ha diviso e quindi mi auguro che appunto non ci facciamo ulteriormente dividere dal neoliberismo e riusciamo a costruire delle connessioni sociali e politiche forti anche mantenendo aperta una discussione grazie Eleonora come avete potuto vedere